È stato illustrato dal Consiglio Comunale dal Consigliere Delegato all'Urbanistica Antonio Santososso, dal responsabile del settore urbanistica Gianfranco Corsano e dall'architetto Pio Castiello che ha redatto il piano urbanistico del Comune le opere che saranno realizzate nel territorio arianese mettendo in evidenza tutti i vantaggi per il territorio. Stiamo parlando di una stazione ferroviaria che al momento è una stazione di testa addirittura, nel futuro dovrà essere una stazione passante e credo che da alcuni punti di vista può stravolgere il territorio in tanti sensi, senso negativo per alcuni versi ma sono molto limitati ma per tante cose come ho detto prima in relazione tutto quello che potrà sorgere attorno alla stazione sarà qualcosa di un volano di sviluppo per tutta questa zona che è stata fino adesso martoriata. Quanto tempo si deve aspettare per uscire fuori dall'isolamento? Ci hanno praticamente dettato i tempi, se si chiude la conferenza dei servizi prima dei 90 giorni previsti sono tutto il tempo guadagnato per poter passare subito la progettazione esecutiva e andare a gara e chiedere RFI e ITALFER chiedere ulteriori finanziamenti per la progettazione definitiva del tratto successivo il Pinia-Ursara. Quindi credo che veramente noi ci attrezzeremo per poter, come tutti i comuni di questo circondario, ci attrezzeremo per dare pareri ovviamente positivi prima dei 90 giorni per accelerare questo ITALFER. Loro dicono poi come inizio dei lavori, si spera se tutto questo finisce bene, inizio dei lavori nell'anno 2018 per finire nel 2026. Questo ci fa sperare che almeno in 6-7 anni potremmo avere una realtà. Teniamo conto di un'altra cosa, che i lavori inizieranno dalla stazione Irpina e procederanno verso Apice, quindi non parte da Apice e viene verso la stazione Irpina di Ariano, ma è al contrario. Quindi noi avremo subito cantieri nella nostra zona. Cosa importante, devo dire, sono gli ulteriori finanziamenti per la compensazione ambientale, che già sono previsti nel progetto e si aggirano dal 2 al 5%. Noi dobbiamo batterci affinché sia il 5%. Dobbiamo chiedere finanziamenti per una migliore viabilità di accesso alla stazione, sicuramente, quindi parlo di una strada alternativa che parte da Camporeale, quantomeno, e arrivi alla stazione Irpina, quindi tre torri. E in futuro prevedere anche un innesto più veloce sull'autostrada, sicuramente anche questo credo che sia ormai nelle cose, nei fatti.